Pipino il Breve, il re che pose fine alla dinastia merovingia. Pipino il Breve, nato a Iupille nel 714 e morto a Saint-Denis nel 768, fu maggiordomo di Palazzo di Naustria ed Austrasia dal 741 al 751, e poi re dei Franchi dal 751 al 768. Fu il padre del futuro imperatore Carlo Magno. Pipino nacque da Carlo Martello, maggiordomo di Palazzo dei Franchi, e da Plechtrude. Suo fratello maggiore, Carlo Magno, fu associato al padre nel governo del regno nel 741. Alla morte di Carlo Martello, avvenuta nello stesso anno, Pipino e Carlo Magno si divisero il regno, con Pipino che governava Naustria e Carlo Magno che governava Austrasia. Nel 743, Pipino e Carlo Magno sconfissero i Sassoni nella battaglia di Suassons, consolidando il loro potere sui Franchi. Nel 747, Carlo Magno si ritirò dalla vita pubblica, lasciando a Pipino il controllo del regno. Pipino era un abile politico e stratega. Nel 751, depose Childerico III, l'ultimo remerovingio, e si proclamò re dei Franchi. Questa azione fu ratificata dall'Assemblea dei Franchi, che riconosceva Pipino come il loro legittimo sovrano. Pipino fu un sovrano forte e illuminato. Incoraggiò l'istruzione e la cultura, e promosse lo sviluppo del commercio e dell'agricoltura. In campo religioso, sostenne il papato contro i Longobardi, che minacciavano Roma. Nel 754, Pipino sconfisse i Longobardi a Pavia, e il papa Stefano II secondo lo incoronore dei Franchi, legittimando così la sua nuova dinastia. Pipino il breve morì nel 768, lasciando il regno ai suoi due figli, Carlo Magno e Carlo Manno. La sua figura è considerata una delle più importanti nella storia dei Franchi, in quanto pose fine alla dinastia merovingia e diede inizio alla dinastia carolingia, che governò la Francia per oltre tre secoli. Le principali opere di Pipino il breve. Pipino il breve fu un sovrano attivo e intraprendente, che si impegnò in diverse opere di governo e di politica estera. Tra le sue principali opere si possono ricordare, la deposizione di Childerico III e la proclamazione di se stesso come re dei Franchi, nel 751. la fine della dinastia merovingia e l'inizio della dinastia carolingia. La vittoria Longobardi a Pavia, nel 754. Questa vittoria rafforzò il potere dei Franchi in Italia e contribuì a consolidare il ruolo del papato. La riforma dell'amministrazione del regno. Pipino riorganizzò l'amministrazione del regno, introducendo un sistema più efficiente e centralizzato. Il sostegno all'istruzione e alla cultura. Pipino incoraggiò lo sviluppo dell'istruzione e della cultura, fondando scuole e biblioteche. L'eredità di Pipino il Breve Pipino il Breve fu una figura importante nella storia europea. La sua deposizione di Childerico III segnò la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra. La sua vittoria sui Longobardi consolidò il potere dei Franchi in Italia e contribuì a rafforzare il ruolo del papato. La sua riforma dell'amministrazione del regno contribuì a rendere più efficiente il governo dei Franchi. Il suo sostegno all'istruzione e alla cultura contribuì a promuovere la cultura e la civiltà. L'eredità di Pipino il Breve è ancora oggi evidente. La dinastia carolingia, da lui fondata, governò la Francia per oltre tre secoli, e il suo figlio Carlo Magno fu uno dei più importanti sovrani della storia europea.